Continuano senza sosta e purtroppo anche senza alcun esito le ricerche di Antonio Catino, l'uomo di San Mango sul Calore, del quale si sono perse le tracce da una settimana, ma le cui ricerche sono cominciate giovedì sera. Sono stati alcuni vicini ad allertare la sorella, riferendo che già da alcuni giorni avevano notato la totale assenza dell'uomo. Antonio Catino è una persona particolarmente riservata e molto solitaria, non frequenta con assiduità neppure i familiari. In paese si vede pochissimo e con i suoi vicini non alcun tipo di rapporto, dunque la sua assenza è stata segnalata con qualche giorno di ritardo. I condomini hanno notato che le luci in casa erano sempre spente e dall'appartamento non proveniva alcun tipo di rumore e anche l'orto che lui abitualmente curava da diversi giorni era come abbandonato, elementi che hanno fatto scattare l'allarme. Le ricerche di Antonio Catino si stanno concentrando in montagna da parte dei vigili del fuoco, supportati anche da squadre speciali come il nucleo TASS, mentre la zona è stata anche sorvolata da un elicottero. I ricercatori si sono recati anche presso una vecchia cascina dove abitualmente il 69enne si fermava quando si recava a cercare funghi o asparagi in montagna per riposarsi, ma dell'uomo non vi è traccia. Vigili del fuoco e carabinieri hanno ispezionato anche l'appartamento di Antonio Catino, dove hanno scoperto che i contatori delle utenze domestiche sono stati disattivati dall'interno, il che potrebbe significare che il 69enne si è allontanato da casa con l'intenzione di lasciare San Mango per un po' di tempo. I carabinieri stanno verificando se Antonio Catino è tornato a Torino, città lui molto nota dove ha vissuto per anni essendo un ex operaio della Fiat. Neppure i familiari, la sorella in particolare, riescono a dare una spiegazione rispetto a questa che al momento resta una misteriosa scomparsa.